Buongiorno, una grande emozione, per me è una grande emozione avere il privilegio di fare memoria di Enzo e Delvina Sellerio, ma di fare memoria nel senso di straordinaria attualità, come ricorda la straordinaria collana voluta da Leonardo Sciascia. Fare memoria significa anche ricordare la nascita di questa casa editrice affidata a un editore, a un fotografo, all'editrice della Cavalieri dell'Amore, che è solo un segno di una sicilianità che si coniuga con la dimensione aristocratica, quella coltura. La finanza personale, tutta se qui, negli alti e bassi, in quell'esperienza, che è comunque rimasta significativa nella storia del servizio pubblico di giusto e proposto a Drici di Mone, conoscendolo al successo, legati con convinzione alle proprie... questo onore mozzalicchiato, questa gioia della vertigine, è una cosa che non posso... oggi la Ciccia di Palermo porta il nome Sellerio nel suo ed è veramente una... chiamo un attimo sindaco, sindaco, scusa, Elvira. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.